Salve, prego, prego si accomodi, sì sì, questa poltrona qui, ok, le do il benvenuto nel primo centro smr in Italia, io sono Chiara e oggi sono qui, sì, per un'implizia del viso, però che cosa ha questo centro benessere di particolare, di speciale? Lei penso sappia cos'è l'SMR, bene, allora praticamente oggi sente che sto parlando a bassa voce, poi oggi approfitterò di tutti i suoni possibili, di tutti gli oggetti che userò per fare il più suoni possibile, le farò anche un massaggio, cercherò di, oltre che farle, una pulizia del viso adatta e profonda, cercherò anche di farla rilassare il più possibile e farle provare questa sensazione di previdi, ok? Allora, prima di tutto, mi serve sapere quali sono i suoi artisti preferiti, sì, e che tipo di video le piacciono, che tipo di video guardo più spesso, ok? Ok, sì, molto bravo, ok, sì, anche lui è molto bravo, anche lui è piccolino, ma è bravo, è bravo, sì, ok, Ok, quindi le piacciono questi stili un po', ok, i trigger preferiti, avete che guarda di solito più spesso i suoi video, insomma, che proprio sa che, ok, perfetto. Ecco, oltre a tutto ciò, lei adesso è seduta anche su una poltrona molto particolare, allora questa poltrona è massaggiante e riscaldante, Vedo questo, sì, è un joystick, in realtà ha solo la forma del joystick, questo è un telecomando, allora, con questo riscalda e se vuole salire con la temperatura, basta fare così, e per scendere basta fare così, salire, scendere, o sente? Questo appunto scalda, ok, questo applica il massaggio alla schiena nella parte bassa, scusi, questo applica il massaggio alla schiena, tutta la schiena, questo nella parte alta e questo solo nella parte bassa, ok? Ok, poi, puoi scegliere se vuole la Roma, deve solo selezionarli qui, e cambierà autore nella stanza, pian piano, insomma, puoi scegliere la Roma che preferisci, e poi, qui, se vuole, puoi scegliere la musica, Se vuole una musica rilassante, particolare, ok? E gli altri tasti sono puramente per bellezza, infatti, volendolo, può anche spingere, e può semplicemente dedicarsi al toccare questi tasti quando vuole, perché può essere un buon antistress, Quindi, vuole ripassare, ok, questo qui se lo ricorda bene, questo, ok, questo sì, esatto, ok, e qui, perfetto. Allora, io questo lo do a lei, e poi lei deciderà come farsi fare il massaggio della poltrona, se farselo fare, a che temperatura, e potrà anche giocarci, mentre io le curo il viso, in questo modo potrà avere magari le piacce, avere le mani impegnate, avere dei bottoncini fra le mani, a me piace molto. Ok, allora, intanto, per prima cosa, devo vedere un po' come è fatta la sua pelle, e ovviamente mi sono già lavata le mani, si è vettata e tutto. Ok, mi posso avvicinare un attimo? Ok, allora, Quindi, le tira? Ok Lei crema usa con quale frequenza? Sì Ok, e si trova bene? Eh, vedo un po', un po' qui sul naso, ok, direi che è una perle mista, comunque. Ok Allora, vedo che non ha niente sul viso, assolutamente perfetto, io però ho bisogno un pochino di detergerlo, ovviamente, ok? Ok E al posto di uno struccante, io voglio usare sul suo viso un guanto, questo guanto. Ah, adesso le faccio sentire com'è morbido. Eh sì, morbidissimo. Questo guanto è un guanto struccante, che però aiuta anche a detergere, quindi io non devo usare niente sulla sua pelle, insomma, nulla. Non ha nessun prodotto sulla sua pelle, ma semplicemente questo guanto per detergerla, ok? E poi cominciamo con il nostro trattamento, visto che comunque lei non ha niente addosso, è solo per togliere un po' dello sporco di fuori, della strada, delle mani comunque capita. Ok Allora adesso è la bagno, e la bagno con acqua che sentirà che è un pochino calda, questo perché? Perché io le vado a detergere il viso, ma ne voglio andare anche ad aprire i pori, perché successivamente faremo una maschera purificante. Ok Sì, questo guanto, allora perché tutti i prodotti che andrò a utilizzare, quasi tutti i prodotti che andrò a utilizzare sul suo video saranno della Yves Rocher. Sì, abbiamo fatto un ordine a poco tempo fa, e questo guanto ci è arrivato in omaggio, vede? C'è il simbolino. Ed è veramente interessante come prodotto, sì. Sì, magari, sì, guardi se vuole a fine del trattamento, le lascio giù qui scritto, è la capogruppo con cui abbiamo fatto l'ordine, così mi ha detto di dire alle mie clienti che se ordinano da lei farà anche uno sconto al 15%, sì anche sui prodotti scontati, quindi adesso magari vediamo come si trova con i prodotti, ok? Ok, allora cominciamo a massaggiare il viso, è calda? No? Bene, sì, non bollente, ok, perfetto. Allora, vado con movimenti circolari, sente come è morbida, è incredibile. Io l'ho provata, ovviamente non questa, non questa che sto usando con lei, ecco, però l'ho provata per struccarmi, un'altra che ho, sempre della Yves Rocher. E' fantastica, è molto comodo perché comunque non deve usare struccanti, così ogni tanto magari è comodo anche da tenere, ossia, una bottiglietta d'acqua vicino al letto, non vale di struccarsi, non vale andare in panico, così si tiene questa spugnetta lì, un po' d'acqua e via che si taglia il trucco. E dopo, questo può andare anche a metterlo, basta lavarlo con acqua e sapone, oppure lo può mettere anche in lavatregio volendo. E molto bello, poi è una scelta ecologica. Ok, molto bene, ecco qui. Sì, lo sto facendo in modo non invasivo, potrei usare anche il labore, però, visto che la pelle mi sta nelle zone più grosse, dopo andare veramente a fare più danni che l'altro. Quindi, facciamo così. Molto bene. Lei è piaciuto questo piccolo massaggio iniziale? Ok. Comincio con il purificare il suo viso. Questa maschera è adatta appunto a pelli miste e grasse ed è opacizza e purifica intensamente la pelle. ingredenti a polvere di bycal proveniente da una filiera controllata e estratta attraverso un progetto 100% naturale. Questa formula contiene più del 92 ingredienti di origine naturale, senza colorante, oli, minerali, parabili. Allora, Vattà, in Francia. Ecco qui, partiamo dalla fronte. Ok. 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 Adesso, ovviamente, non faccio gli occhi. Vado sulle guagge. Sui lati. Ok. Ok. Sulla zona di qui. Sulla zona, non andrò a usare questa crema opacizzante, ma andrò a usare un patch. E, ah, sul mento. Ok, benissimo. Allora, io sarei il patch solo sul naso, invece, qui sopra e sotto al mento. Usiamo invece la maschera pulificante, benissimo. Allora, finisco di applicarla. Ok. E lasciamo in posa per 5 minuti, poi vado a ritrattare un attimo il naso. Ok. Ma si sa che in pochissimo, proprio 5 minuti, vado a ritrattare il naso, benissimo. E vado a mettere un patch. Ok. Ok. Ecco qui. Aspetti che lo posso dire bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Ok. Benissimo. Allora, anche questo patch lo terremo 5-6 minuti. Allora, io direi che i 5 minuti sono passati, si rilassate in questi minuti. Ok. E andiamo a rimuovere la maschera. Sempre con questo quanto. Ok. Ok. Si, l'ho già ripagnato. Molto bene. Allora. Ecco qui. Ok. Il mento. Come si sente la pelle? Bene, bene, bene. Certo. Dopo magari le faccio vedere che prodotto ho usato. Bene. Anche magari sul volantino possiamo sbagliarlo insieme. Ok. Benissimo. Ci siamo. Allora. Adesso andiamo a rimuovere il patch. Ok. Ok. Sì, con calma. Sì, un pochino attira, è normale. E voilà. Guardi un po'. Ha piantato un bel po' di roba. Sì, sì, sì. No, magari se la tocca dopo, che è la pelle. Adesso non voglio che la sporchi. Però le assicuro che già è molto meglio. Molto, molto meglio. Allora, adesso, vado a fare un bel gommage. Io uso questo bel prodottino. Sempre della Yves Rocher. Si può vegetarli. Sempre per pelle miste e grasse. E sbaglia e purifica perfettamente la pelle. No, no, no. Non è esagerato assolutamente. Si fanno usati con tutti i giorni, eh. Due volte a settimana. Approfittiamo del bellissimo suono di questo prodottino. Questa formula contiene più del 97% di ingredienti che c'è la tua madre. Eh, lei ci attenta. Allora. Questa... Questa crema esfoliante ha dei microgranuli. Allora, la posso vedere. Ecco qui. Ha dei microgranuli che andranno bene a esfoliare il suo viso, ok? È un gommage molto delicato perché abbiamo fatto anche la maschera proficante. Io non voglio esagerare, certo. Questa crema è un gommage molto delicato, ok? Allora, allora... Andiamo a usare questi microgranuli sulla sua pelle. Allora, cominciamo dalla fronte. Ok? Ok. 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 Sento che hai scelto un bel sottofondo di layer sounds che li adoro. Ok. Ok. Preferisci a questi la musica rilassante, sì? Ma io dipende, dipende. Le piace avere il joystick in mano? Ti piace? Il joystick in mano. Eh sì, ma rilassa. Un po' l'antistress. Ok. Andiamo. Scusi. Sul naso. E massaggio. Questo non deve stare in posa, semplicemente devo massaggiare. Faccio movimenti circolari. Faccio movimenti circolari. Cerco di premere un po'. E questo serve appunto per rimuovere le cellule morde in sopravvigia. Ok. E diciamo un po' far rinascere un pochino la pelle. Ok. Basta solo il sottofondo. Benissimo. Allora, adesso andiamo a pulirle il viso e questa volta userò appunto un prodottino molto, molto, molto interessante che è questo qui. Allora, questo cos'è? Questo è in due in uno, detergente più tonico alla camomilla. Molto delicato. Per tutti i tipi di pelle. Protegge. E ammorbidisce la pelle. Questo è un testo che indolcezza e tonifica la pelle. Ok. E lo andremo ad applicare con del cotone. Questo lo andremo ad applicare sia per togliere quello, insomma, quel poco che ha fatto, quella poco di cremina che c'era. Nel commage. E poi lo useremo anche come tonificante. Vado ad usare questi dischetti. Mi piace questo suono? Ok. 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 ecco qui molto bene c'è un po' di tabli l'odore è buonissimo molto delicato il bello è che questo flacone è riciclabile contenente plastica riciclata l'odore è molto delicato molto buono ok allora andiamo ok come se la sente la pelle? beh un pochino normale che dire insomma l'abbiamo purificata e purificando un po' si secca abbiamo bisogno di una bella maschera idratante ok benissimo ci siamo e senti che io ho tolto tutto il prodottino di prima inoltre ne ho anche tonificato la pelle ti l'ho chiuso un po' i pori ok molto carino questo prodotto allora ultima cosa andiamo a fare appunto una maschera una maschera idratazione intensa l'infavecetale idroalistititica sempre dell'ives rocci per pelli normali miste quindi va benissimo si mette per 5 minuti e non è adatto al contorno occhi per il contorno occhi userò un idratante specifico quindi andrò a mettere un prodottino solo sotto il contorno occhi e questo sotto il resto del viso e le andrò a mettere anche poi un burro a cacao per idratare anche le labbra che non vanno mai dimenticate ok poi andiamo certo qui abbiamo bisogno di idratazione qui abbiamo bisogno di idratazione molto bene si è qui sul mento non dimentichiamoci mai i lati del viso mai 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 la fronte bene 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 ne abbiamo messo un po' si 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 e ne ho bisogno di metterle un pochino perchè deve stare in posa ok ne prelevo un pochino non ne serve tanto è molto molto tenso e vado e vado sotto gli occhi in questo modo si è che qui ne metto un po' ok ne metto un po' e comincio un po' e comincio già un po' a farlo assorbire perchè questo è molto corposa questo contorno occhi mettiamola così quindi bisogna anche un po' massaggiare prima di mettere in posa bene 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 allora uso 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 le piace il cocco ok ok allora uso questo burra cacao alle noci di cocco sentirà che è veramente scorrivolissimo senta come è morbido ma poi che odore ha cioè che odore ha un profumo in una maniera incredibile di cocco però personalmente anche io amo il cocco ci sono anche la fragola lampone macadami adesso comunque li faccio vedere magari molto bene oh mio che odore allora adesso adesso le metto questo tessuto sul viso ok è un tessuto semplicissimo è un tessuto semplicissimo non ha niente sopra quello che devo mettere la bianza messa allora ok ok molto bene adesso lo faccio aderire ok ok come se la sente è un po' va fatica per l'aria ovvio ok molto bene ok intanto che aspettiamo l'effetto di questa maschera idratante io pensavo che potesse piacerti un po' di page flipping visto ciò che mi hai detto sui tipi di video che guardi con un po' di tracing ti può piacere? bene allora rilassa ti concentrati sui suoni sui suoni non ti preoccupare ok 0 3 0 3 ok magari ti faccio vedere anche le altre cose che secondo me sono molto carine così random ecco ecco qui ecco qui ecco qui l'illuminante è molto bello da una luminosità sotto gli occhi che ne avrei molto bisogno e qui abbiamo uno stick che invece è il correttore proprio per il colore i blush i pennelli i rossetti tu preferisci tu preferisci quelli matt o quelli più shimmer quelli più cremosi anche io quelli matt ci sono alcuni che non seccano tantissimo nei labbra qui sono molto buoni poi ad esempio qui ci sono dei prodottini molto interessanti ad esempio c'è una matita labbra in colore che quindi aiuta a non far spavare il rossetto e però è adatta a tutti i rossetti e poi c'è ad esempio il primer labbro bacizzante che in altri prodotti non secondo me è molto carino che dice se vuoi tenere un effetto matt stendi il primer labbro bacizzante prima di applicare il tuo rossetto preferito è molto carino e poi c'è il pennello che guarda questo blu che bello ecco questo è quello che abbiamo usato noi qui maschera purificante sebo vegetale formula arricchita con argilla assorbe estentaneamente l'accesso di sebo libera i pori in profondità donando la sensazione di pulizia e freschezza e qui abbiamo anche la maschera idratante texture fresca ed idratante nude intensamente la pelle che ritrova tutta la sua freschezza e qui il tonico due in uno detergente tonico in un solo gesto deterge e tonifica la pelle delicatamente si sa che fra poco dobbiamo possiamo togliere la maschera in un altro in un altro in un altro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, sono passati 5 minuti di trattamento. Adesso io le vado a rimuovere la maschera, il tessuto, scusi. Ok. Ok, vedo che la maschera si assorbita molto bene. Sì, qualcosa comunque, adesso le faccio un po' un massaggio, qualcosa va rimosso. Ecco, le maschere sono così, però si assorbe veramente molto bene. Ok, allora questa maschera poi la buttiamo. Ok. Allora andiamo a fare un massaggio. Un massaggio rilassato. Ok, ora come ti senti la pelle? Bene. Andrea, se ti trattavo, ti senti anche un po' di loro, non dovresti? Benissimo. Bene, 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 bene. ok, allora il trattamento è finito io spero si sia rilassata al massimo spero che questa esperienza nel genere SMR le sia rilassata le sia piaciuta, scusi e puoi ritornare quando vuole anche per altri trattamenti, certo allora io ne lascio il nome della rappresentante che mi ha dato tutti questi prodotti i frasci fantastici e i nomi dei prodotti e si le fa uno sconto del 15% si le farà il 15% anche se i prodotti scontati ok allora mi dia la sua mail che le mando l'audio B B M ok, gmail.com perfetto, allora lei il foglio e io spero di vederla presto, insomma perfetto lei ha ancora una splendida giornata se vuole può restare ancora un po' qui quanto vuole ok, tanto è l'ultimo della giornata può restare qui anche un quarto d'ora a godersi un po' il massaggio benissimo arrivederci buona serata buon relax arrivederci a Grazie.